annunciato il nuovo dpcm nelle marche ancona in tona rossa e agli esi chiudono le scuole crisi economica da inizio covi da pesaro chiudono oltre 40 attività si rigate il parco san bartolo propone il declassamento della strada si chiama intelligence 5.0 il nuovo progetto di digitalizzazione targato bs una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale apriamo subito questa edizione parlando delle modifiche avvenute nelle ultime ore nel territorio regionali riguardanti le fasce di rischio con l'ingresso della provincia di ancona in zona rossa e la chiusura agli esi di tutte le scuole insieme a questi provvedimenti ieri sono state annunciate le restrizioni contenute nel nuovo dpcm che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo sentiamo tutto in questo primo servizio insieme agli annunci relativi al passaggio della provincia di ancona in zona rossa a partire da oggi e della chiusura agli esi delle scuole di ogni ordine grado sono state rese note le misure del nuovo dpcm che entreranno in vigore a partire dal prossimo 6 marzo e saranno valide fino al 6 aprile tante le conferme rispetto alle misure precedentemente stanziate a partire dalla segnazione della fascia di rischio per ciascuna regione con le zone bianche gialle arancioni e rosse non si potrà viaggiare in comuni diversi rispetto a quello di residenza se ci si trova in zona arancione o rossa mentre gli spostamenti verso le seconde case saranno consentiti soltanto al nucleo convivente che però non potrà muoversi se vive in un territorio designato in zona rossa o se la seconda abitazione si trova a sua volta in un'area inserita nella più alta fascia di rischio confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 che nelle zone bianche partirà alle 23 mentre gli spostamenti tra regioni rimarranno bloccati fino al 27 marzo per quanto riguarda le scuole la didattica a distanza tornerà nelle regioni posizionate in area rossa mentre nelle fasce gialle arancioni saranno i governatori a decidere la chiusura delle scuole in base al peggioramento dei contagi oppure nelle zone in cui ci siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti in merito alle attività commerciali bar e ristoranti rimarranno aperti al pubblico nelle zone gialle dalle 5 alle ore 18 mentre nelle zone bianche la chiusura slitterà alle 21 per i bar e alle 23 per i ristoranti la possibilità di effettuare domicilio asporto rimarrà attiva in ogni caso e sempre il servizio ad asporto sarà consentito fino alle 22 anche alle enoteche o agli esercizi di commercio al dettaglio di bevande confermata fino alla zona arancione l'apertura dei negozi al dettaglio mentre nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi all'interno dei centri commerciali ancora sospese le attività di palestre e piscine mentre in zona rossa dovranno tornare ad abbassare le saracinesche anche i parrucchieri i barbieri e i centri estetici sul fronte novità in zona gialla a partire dal prossimo 27 marzo i musei oltre che nei giorni infrasettimanali potranno aprire anche nei festivi e nei weekend e dallo stesso giorno torneranno attivi anche teatri e cinema composti a sedere preassegnati e una capienza delle sale non superiore al 25 per cento del totale con un massimo di 200 spettatori al chiuso e 400 all'aperto le misure imposte però non sembrerebbero creare le condizioni idonee per una vera ripartenza come spiegato anche da massimiliano giometti il quale ha affermato che con queste premesse le sale cinematografiche giometti a pesaro non riapriranno le sale giometti pesaresi non sicuramente possibile aprire queste condizioni aprire delle strutture senza una programmazione preventiva sarebbe un delirio il cinema è una macchina complessa come lo sono i teatri nel senso per far partire una stagione teatrale o per far partire una programmazione cinematografica continuativa e sottolineerei questo vocabolo perché riaprire per poi richiudere sarebbe una morte certa e ci vuole programmazione programmazione comunicazione preventiva nel senso che dobbiamo sapere prima quali film possono essere distribuiti per comunicarli all'eventuale pubblico consideriamo che i film americani già non ci sono da un certo periodo alcuni sono andati direttamente sulle piattaforme ma qui anche quelli italiani i film italiani notizie di qualche giorno fa anche quello di verdone che era uno di quelli che si aspettavano di produttare al cinema uscirà sulle piattaforme quindi i film ci sono i film ci sono fermi purtroppo però non è che sono disponibili tutti ad uscire oltretutto stiamo andando anche verso una fase di cui il cinema solitamente è un caso fisiologico andando verso l'estate quindi anche se si apre adesso nessun regista o nessun produttore di un film più importante penserebbe di farlo uscire subito in un periodo così incerto soprattutto con una limitazione così ampia dei posti ci aspetterebbe settembre ottobre l'autunno per vedere un pezzo di rodaggio ma noi il rodaggio lo facciamo sulla nostra schiena e ammontano a più di 144 mila i controlli sull'osservanza delle misure anti covid eseguiti dalle forze di polizia e dalle polizie locali dall'inizio della pandemia ad oggi con la contestazione totale di 2685 violazioni nella sola giornata di ieri sono state controllate 268 persone con la contestazione di 12 violazioni sempre ieri inoltre sono state controllate 106 attività commerciali con la contestazione di un illecito e parliamo ancora di cronaca perché è stato scoperto e denunciato un dipendente pubblico del comune di mercatello sul metauro che ha tentato indebitamente di ottenere un pc acquistandone uno nuovo per uso privato e provando ad inserire il suo vecchio apparecchio privo di alcun valore commerciale tra le forniture da effettuare nei confronti dell'ente comunale presso cui lavora per un valore totale di 700 euro ad intervenire è stata la guardia di finanza di urbino in seguito alla segnalazione del sindaco e non tendono a diminuire i danni che la crisi economica derivante dal covid ha lasciato e lascia tuttora anche nel nostro territorio e nella nostra città lo si può osservare per esempio dal numero di vetrine spitte che aumentano soprattutto in centro storico sono state infatti più di 40 le chiusure in città nel primo anno di lotta contro il covid come si è spiegato anche il segretario della conf commercio davide ipaso è passato ormai un anno dall'inizio del covid e dai primi casi che sono stati registrati anche nella provincia di pesaro urbino poco più tardi sono arrivate anche le ripercussioni economiche di questa pandemia che ha interessato anche le attività e i locali della nostra città ripercussioni economiche che possiamo vedere anche in centro storico con le tante vetrine i tanti negozi che hanno chiuso in questo anno di pandemia abbiamo perso oltre 40 attività in un anno tra il servizio ristorativo e quindi gruppo reka e il quindi pubblici esercizi e le attività normali come possono essere i negozi che noi camminando lungo via branca basta soltanto vedere quanti negozi sono sfitti una cosa che una moria così non si era mai vista la cosa brutta è che quei negozi sfitti non vengono recuperati subito perché perché in questo momento aprire è da pazzi la cosa più brutta in questo momento secondo me è proprio l'idea di non sapere che cosa succede domani e non sapere cosa succede domani vuol dire non sapersi organizzare oppure programmare nel breve o medio termine un lavoro e il diritto costituzionale al lavoro è stato calpestato pesantemente sia dal covid sia dal dpcm che sono stati attuati nel 2020 in più l'ultimo dpcm oggi ancora più restrittivo rispetto ai precedenti quindi sicuramente il problema al problema sanitario che è un problema serio si aggiunge quello socio economico che è pesante noi abbiamo perso il natale dicendo che ce l'avrebbero comunque garantito l'abbiamo perso stiamo perdendo la pasqua e la mia paura più grossa che questo non abbia delle ripercussioni anche nella stagione balneare nella stagione turistica perché se dovesse mai succedere anche quello non conteremo soltanto qualche decina di attività e io gli amici miei che hanno tutte le attività sono tutte persone che hanno difficoltà economiche grossissime e stiamo parlando con decine di migliaia di euro di di perdite perché perché non sono in grado di poter lavorare sul comune io non posso dire assolutamente nulla tutto quello che potevano fare tenendo in considerazione che le amministrazioni piccole come possono essere il comune o le regioni rispetto al dpcm nazionale potevano soltanto fare delle attivarsi in maniera restrittiva al dpcm ci hanno dato l'opportunità di avere dei ristori esempio i 500 mila euro tra virgolette regalati dall'amministrazione comunale per il 40 al 50 per cento della tari è un gesto importante che il comune ha fatto perché si rende conto che come dicevamo giustamente nei giorni scorsi nel momento in cui il sistema crolla se calano le ditte ci sono i licenziamenti se ci sono i licenziamenti gira meno denaro se gira meno denaro invece di creare ricchezza crea povertà la povertà che cosa va a incidere incide sulle attività che cosa succede le attività chiudono e tasse e tributi imposte vengono meno e il sistema ma tra virgolette implode questa è la più grossa preoccupazione dal punto di vista economico che noi onestamente paventiamo da qualche mese e ora la pagina relativa agli aggiornamenti covid sul nostro territorio il servizio sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.061 tamponi 4.779 nel percorso nuove diagnosi di cui 2.089 nello screening con percorso antigenico e 2.282 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 15,9% i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 759 con ancora la gran parte dei casi accertati nella provincia anconetana e 156 nuovi positivi in quella di Pesaro Urbino 11 decessi notificate ieri sera dal servizio sanità della regione e da questa mattina sono iniziate anche nelle Marche le vaccinazioni per il personale delle Forze dell'Ordine al quale verrà somministrato il vaccino AstraZeneca non sarà necessario provvedere alla prenotazione e a supportare il personale dell'Asur e dell'azienda ospedaliera Marche Nord ci sarà il personale sanitario della Polizia di Stato e della Marina Militare si comunica inoltre che completata l'acquisizione da parte dei comuni degli elenchi del personale delle scuole è stata avviata la procedura di prenotazione tramite la piattaforma Poste anche per il personale delle scuole paritarie e degli asili comunali e torniamo ora a parlare dell'installazione dei New Jersey e dei lavori che interessano le Siligate lavori che sono finiti al centro del dibattito pubblico ormai da diverse settimane la proposta che arriva dal presidente dell'ente Parco San Bartolo Stefano Mariani è quella di declassare la statale e la necessità di tutelare il parco arriva anche dal sindaco di Gabice Mare Domenico Pascuzzi li sentiamo entrambi in queste interviste io chiederò come parco il declassamento della strada il declassamento a parere mio della strada comporterebbe tutta una serie di possibilità di interventi che andrebbero verso una tipologia diversa da quella che oggi potrebbe offrire in quella categoria che si trova la strada evidentemente questa è una richiesta che io andrò a fare all'ANAS, al ministero perché chiaramente ritengo che ci voglia è una cosa che i tecnici stanno studiando, un decreto ministeriale per il declassamento è anche vero che l'ANAS ha chiesto al parco di fare uno studio per i corridoi ambientali studio che chiaramente è in corso per il resto evidentemente faremo tutte le valutazioni che servono sulla questione ma questa è l'iniziativa che vuole fare il parco che è un'iniziativa non di breve respiro ma di lungo respiro chiaramente da qui a quando è nato il parco le situazioni sono completamente al 94 cambiate le tipologie cambiate, le necessità sono diverse e quindi a questo punto è anche giusto cercare di trovare per quella strada soluzioni diverse Abbiamo assesito un po' a questo lavoro importante che ha messo a punto l'ANAS mi sento spesso con il comune di Pesola anche se è un'opera che viene realizzata da ANAS tutto sul territorio pesarese ma coinvolgendo il parco e noi facendone parte è chiaro che ci vuole la massima attenzione forse sono stati sottovalutati alcuni aspetti dal punto di vista della protezione della fauna in principal modo oltre che della sicurezza ma sulla sicurezza si può lavorare bisogna capire se la scelta di installare New Jersey sarà una scelta definitiva o meno ci auguriamo che possa essere garantita ai fini della tutela di chi vive della sicurezza ma anche della fauna del parco che è un po' il nostro fiore all'occhiello spero che si possano adottare delle misure che possano portare a una giusta connubia fra un'opera che ha la volontà e l'esigenza come giusto che sia di garantire la sicurezza su quel tratto di strada statale che comunque aveva dei numeri importanti di incidenti quindi da un lato bisogna tutelare la sicurezza di chi utilizza quell'arteria dall'altro però bisogna anche tutelare l'aspetto faunistico e quindi il contesto in cui ci troviamo e sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Omar Sivori di Cartoceto l'intervento dell'ammontare di oltre 60.000 euro è stato pianificato dall'amministrazione col fine di apportare delle migliorie significative alla struttura sportiva che ospita le attività di due società di calcio a 5 l'ASD Bulldog TNT Lucrezia e l'ASD Lucrezia nonché quelle del tennis club Lucrezia e i bambini del comune di Terre Roveresche potranno andare a scuola a bordo di un mezzo amico dell'ambiente Green Vehicles azienda di Iesi specializzata nella produzione di veicoli elettrici trasformerà infatti il nuovo scuolabus in un veicolo ibrido in grado di viaggiare anche ad energia elettrica come ha annunciato Enrico Capanera che è il general manager di Green Vehicles e partirà domani il secondo turno di screening e tamponi destinato alle scuole pesaresi e organizzato dall'amministrazione comunale l'assessore con delega alla scuola Giuliana Ceccarelli ha sottolineato l'importanza dei controlli all'interno degli istituti per garantire la didattica in presenza guardando anche il decreto di PCM di ieri emesso da Draghi e dal Consiglio dei Ministri i 250 case all'interno del contesto comunale noi saremo sicuramente rimasti fuori avremmo potuto continuare col 50% o col 75% di didattica in presenza certo è che capisco la difficoltà di una regione di un governatore regionale nel prendere queste decisioni ma abbiamo a nostro favore un aspetto che non so se è unico in tutta Italia o perlomeno è molto particolare che è quello che noi abbiamo fatto all'interno delle scuole secondarie di secondo grado quelle che comunemente vengono chiamate scuole superiori i test, lo screening con i tamponi e abbiamo visto che questo è sicuramente una forma di prevenzione che aiuta a ritornare in presenza se questa cosa venisse ripetuta con una cadenza almeno mensile all'interno dei nostri istituti avremmo il polso della situazione ed è quello che stiamo facendo tant'è vero che il 4 e il 5 li ripetiamo per la scuola media e anche per le scuole secondarie di secondo grado però naturalmente non essendo in presenza dovremo accettare la disponibilità personale di ciascuno però ecco questo dello screening con i tamponi è sicuramente un'arma vincente a nostro parere lo diceva anche ieri sera il nostro sindaco nell'intervista con Bianca Berlinguer se questa cosa venisse diffusa a livello nazionale per far ritornare le scuole in presenza soprattutto ovviamente le scuole superiori perché sono loro le maggiormente coinvolte riusciremo sicuramente ad arginare e a prevenire questa situazione giornalmente sul mio tavolo arrivano le comunicazioni dell'ASUR sulle varie situazioni nelle diverse scuole non è così grave perlomeno sappiamo ormai come comportarci arriva la certificazione dell'ASUR sappiamo che quella classe sarà in quarantena o sarà in quarantena semplicemente l'insegnante dipende se è passato su diverse classi eccetera si riesce sicuramente a gestire sta di fatto che comunque abbiamo riscontrato che la didattica in presenza dai nidi alle scuole medie ha naturalmente fatto nascere un gran desiderio di continuare a fare scuola insomma ecco se noi dovessimo interrompere adesso tutta l'attività scolastica io credo che al di là delle ripercussioni sull'apprendimento e sulle capacità internazionali dei ragazzi c'è anche un problema sociale delle famiglie insomma che non è cosa da sottovalutare e nell'ultimo consiglio comunale è stata annunciata per Pesaro l'istituzione della figura del garante per i diritti della persona disabile incarico che sarà ricoperto da Marusca Palazzi la quale come primo atto ha richiesto lo stato di attivazione per le procedure di vaccinazione nei confronti delle persone con disabilità gravi e per i loro accompagnatori nelle prossime interviste l'assessore alla solidarietà Sara Mengucci e la stessa Palazzi ci parlano del lavoro di questa nuova figura è sicuramente un ruolo molto importante per l'amministrazione comunale il garante si pone come punto di riferimento nei rapporti, nelle relazioni tra gli uffici comunali e le persone con disabilità le sue azioni, le attività saranno rivolte alla tutela dei diritti delle persone disabili azioni, attività e progettualità che saranno rivolte anche alla promozione di una cultura di inclusione sociale di integrazione sociosanitaria abbiamo fatto questo percorso insieme al Presidente del Consiglio Perugini insieme al Presidente Jacopini della Commissione Politiche Sociali e tutti i consiglieri della Commissione Quarta Politiche Sociali è stato fatto un avviso pubblico nelle settimane scorse e sicuramente la scelta di Marusca Palazzi è stata una scelta anche sul quale ha favorito l'assoluta indipendenza, garanzia ma anche la competenza ovviamente nelle materie che riguardano la disabilità quindi assolutamente un'esperienza in questo campo degna di nota quindi il ruolo di garante sarà anche un ruolo di ascolto di confronto, di rilevazione di quelle necessità di quei bisogni anche di quelle eventuali situazioni discriminatorie nei confronti delle persone disabili questo è quello anche che si vuole cercare in qualche modo di tutelare i diritti vengono prima di tutto anche quando si parla di disabilità a scuola io parto sempre dalla Costituzione, dalla normativa da lì partiamo e da lì costruiamo poi le relazioni per cui io avrò un grande piacere anche nel poter studiare e farmi io anche quella parte del diritto che riguarda i diritti delle persone disabili adulte che conosco meno io cercherò di vigilare su questo il fatto che io sia una figura super partes e a politica mi permetterà di comunicare liberamente con tutti i luoghi dell'istituzione comunale la prima cosa che farò nel conoscere nell'osservare sarà osservare il linguaggio perché il linguaggio che riguarda la disabilità le persone con disabilità è molto importante il linguaggio plasma la mente for mai il pensiero pertanto vorrei che le istituzioni sapessero usare un buon linguaggio alzare il livello del pensiero della nostra società ed è stato presentato questa mattina il progetto Intelligence 5.0 un nuovo progetto della multinazionale pesarese BS che punta sempre più alla digitalizzazione insieme all'Università Politecnica delle Marche e con il sostegno della Regione sentiamo i dettagli in questo prossimo servizio creare servizi evoluti e digitali per i clienti partendo dalla riprogettazione delle macchine attraverso un sistema tecnologico integrato per rilevarne costantemente le condizioni e lo stato di utilizzo da queste basi nasce Intelligence 5.0 progetto presentato dalla multinazionale pesarese BS in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e con il supporto della Regione per lo sviluppo di sistemi evoluti di diagnostica industriale un progetto che punta a proseguire il grande processo di trasformazione digitale già avviato da tempo in azienda come sottolineato dall'amministratore delegato di BS Group Roberto Selci aumentando l'efficienza produttiva degli impianti e realizzando interfacce intelligenti in grado di semplificare il lavoro degli operatori con i macchinari l'investimento complessivo da realizzare in 36 mesi è pari a 6.837.000 euro di cui 4,9 milioni saranno sostenuti da BS Group e la parte restante dall'Università Politecnica delle Marche il progetto ha inoltre ottenuto una prima ratifica dal MISE e una quota di cofinanziamento dalla Regione Marche Intelligence 5.0 si inserisce all'interno dell'ecosistema di BS Group OpenAI che promuove innovazione attraverso collaborazioni con soggetti qualificati in tutto il mondo tra cui università, centri di ricerca e denti pubblici dedicati siamo stati sempre molto attenti alle innovazioni digitali e anche nell'ambito produttivo avendo già dal 2006 un metodo di produzione di lean production anche lì abbiamo digitalizzato da diversi anni tutte le logiche produttive oggi sicuramente l'evoluzione tecnologica sta facendo dei passi da giganti perché tutto il mondo è volto ad una trasformazione digitale per noi è un progetto molto molto importante sicuramente molto importante però è stato sempre nei nostri cromosomi avere dei processi robusti e stabili sostenuti da dei tools che ci danno quindi questi strumenti che ci danno la garanzia che i processi vadano mantenuti Io ringrazio il nostro servizio industria che ha lavorato in questi mesi con BS e con gli altri partner insieme al Ministero e la macchina che dovrebbe andare in produzione avrà sicuramente, come ci auguriamo un importante effetto positivo per l'azienda perché riuscirà ad essere predittiva riuscirà ad essere più performante a migliorare la qualità del prodotto BS ma lo dico anche dal punto di vista politico e sociale avrà un beneficio anche il territorio avrà un beneficio in termini di assunzioni perché ci saranno, sono previste oltre 60 assunzioni nei tre anni del progetto c'è una interconnessione con l'università e quindi con la quarta missione dell'università che è quella di trasformare la conoscenza in competizione industriale in processi industriali quindi si contemplano in questo progetto che oggi presentiamo tanti valori tutti insieme e credo che sia anche la strada giusta verso una nuova partnership tra il pubblico e il privato e in questo caso quando le due strategie convergono e vanno nella stessa direzione si possono creare cose buone io credo che questo progetto se ce ne fosse ancora bisogno di presentarlo ma è l'esempio vero di una politica industriale strategica che vede in collaborazione il territorio le imprese con chi governa i processi produttivi e questa era davvero l'ultima notizia per il nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV che questa sera vedrà due approfondimenti riguardanti la regione Marche il primo in cui si farà il punto sull'Europa e sui finanziamenti europei con questo appuntamento dal titolo Marche.Europa questa sera alle 21.15 e alle 21.30 si parlerà invece di agricoltura con l'appuntamento che si è tenuto a Iesi del ciclo di incontri per la raccolta delle istanze per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della regione questa sera alle 21.30 su Rossini TV e poi l'informazione torna puntuale domani mattina con un nuovo appuntamento della nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini in diretta su Rossini TV come tutte le mattine alle 7.20 e poi domani sera torna puntuale l'appuntamento anche con Insieme a Canestro il programma dedicato al basket e alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro gli ospiti saranno Edin Mujacovi Ciala VL Roberto Venerandi preparatore fisico Luigi Luminati giornalista del resto del Carlino e Romeo Sacchetti coach nazionale italiana basket l'appuntamento con Insieme a Canestro condotto da Marco Cadeddu torna quindi domani sera alle 21.15 grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV grazie per averci seguito grazie per averci seguito